Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi della potenza, della preghiera d'intercessione, perché tra le cose che i credenti devono fare c'è prima di tutto quella di pregare, rientra tra la giustizia dell'uomo, cioè tra le opere che l'uomo deve compiere ogni giorno, e c'è la preghiera. Una parte, una cosa che riguarda la preghiera è la preghiera d'intercessione, cioè cosa significa intercedere? Intercedere significa mettersi in mezzo, nel nostro caso adesso parliamo della preghiera d'intercessione, quindi con la preghiera d'intercessione tu ti metti in mezzo tra Dio e un'altra persona, capite? Ci si mette in mezzo. Naturalmente questo si interviene, quindi non si rimane neutrali, ma si interviene, si interviene pregando il Dio affinché quella persona specifica riceva qualcosa di cui ha bisogno, capite? E quindi più questo bisogno è importante, come ad esempio la salute, la guarigione, la salvezza, quindi attenzione che la preghiera, questo argomento, questa questione sulla preghiera d'intercessione riguarda tutti i credenti, perché tutti noi abbiamo qualcosa per cui intercedere, tutti. Quindi è importante capire qual è questa efficacia, questa potenza della preghiera d'intercessione per poterla fare riponendo tutta la fede possibile in Dio per ottenere quello che si sta chiedendo per qualcun altro. Quindi non si deve soltanto pregare per se stessi, è la preghiera, quindi quando ci mettiamo a pregare ci sarà un momento della preghiera che si loda il Signore, dei momenti in cui si prega per le cose di cui ognuno di noi ha bisogno, ma poi si deve anche passare a quella parte che riguarda l'intercessione per gli altri fratelli, l'intercessione per quelli che ci sono cari e chiedendo, questo è importante, non una preghiera generica, Signore benedici la Chiesa, Signore benedici il fratello, ma chiedendo specificamente quello di cui quel fratello o quella sorella hanno bisogno, quindi bisogna entrare nel merito. Ad esempio, come se un fratello è all'ospedale e malato si prega per la sua guarigione affinché il Dio lo ristabilisca, capite? E seppur, diciamo, ha commesso dei peccati, questi gli vengano rimessi, perché talvolta uno non sta bene o perché è una prova per lui, oppure perché è una punizione per lui, che Dio gli manda una punizione. Allora, nel caso in cui si tratta di una punizione è chiaro che c'è il peccato di mezzo, di conseguenza bisogna che questo peccato venga esaminato dall'interessato e venga tolto di mezzo. Però si può anche pregare affinché questi peccati vengano sistemati, rimessi dal Signore, e è comandato anche questo. Quindi oggi il mio intento è quello di farvi capire quanto è importante e quanto è potente la preghiera d'intercessione. E cominciamo a leggere da quello che ci dice Giacomo, il fratello del Signore. Quindi leggiamo al capitolo 5 dal versetto 16, sta scritto «Confessate dunque i falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia». Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi e pregò ardentemente che non piovesse e non piove, sulla terra per tre anni e sei mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Quindi vedete l'esortazione che Giacomo fa ai fratelli a cui la sua lettera è inviata. Cosa gli dice? Gli dice «Confessate i vostri peccati gli uni agli altri». Naturalmente se uno pecca nei confronti del fratello deve confessare che riconosce di aver peccato e il fratello lo perdonerà. Però dice anche «Pregate gli uni gli altri onde siate guariti». Quindi l'Apostolo Giacomo esorta i santi a pregare gli uni per gli altri affinché siate guariti. Quindi uno dei compiti di ogni membro della Chiesa, qui stiamo parlando non di una comunità, di un'organizzazione o di una denominazione, si parla qui della Chiesa universale, di ogni membro che fa parte della Chiesa dell'iddio vivente vero. Quando si nasce di nuovo si entra a far parte della Chiesa dell'iddio vivente. Quindi ognuno di quei credenti che è nato di nuovo ed è entrato a far parte della Chiesa ha l'obbligo di pregare e intercedere per i fratelli. Qui dice, Giacomo dice «Onde siate guariti». Quindi se il fratello, noi preghiamo per il fratello, se sta bene, diciamo «Signore, mantienilo in salute, mantienilo in salute». Se invece non sta bene, è chiaro che dobbiamo pregare per lui, intercedere per lui affinché ottenga la piena guarigione da parte di Dio». E qui dice, guardate, qui Giacomo ci fa capire quanto è importante, ma anche la potenza della preghiera di intercessione. Infatti dice «Molto può». È chiaro che non poteva dire, Giacomo, che la preghiera di intercessione può fare tutto. Non lo poteva dire. Perché? Perché praticamente si viene esauriti solamente se si chiede qualcosa che rientra nella volontà di Dio, capite? Se uno chiede qualcosa che non rientra nella volontà di Dio, non sarà esaudito. Quindi vedete, la supplicazione, l'intercessione davanti a Dio può fare molte cose, però non può fare tutto. È chiaro, come anche la fede può fare tante cose, però queste cose se rientrano sempre nella volontà di Dio. Ecco, parlando della fede, ricordatevi che quando si prega, sia per se stessi sia per gli altri, una delle condizioni fondamentali per essere esauditi, come dice lo stesso Giacomo, per ottenere qualche cosa è quella di pregare con fede. Cioè credendo pienamente che quello che tu stai domandando al Signore lo otterrai, ti verrà dato o nel caso dell'intercessione quello che tu stai chiedendo per il fratello egli lo riceva. Questo è importante. Crederci in quello che stai facendo. Perché ricordati che se tu qualsiasi cosa stai chiedendo a Dio per te o per gli altri, se lo stai chiedendo senza fede, come dice Giacomo, non pensare di ottenere qualcosa perché tu non otterrai nulla, né per te né per gli altri. Quindi quando preghi, quando ti inginocchi, alzi le tue braccia al Signore e gridi a Lui per te e per gli altri, ricordati che devi farlo con fede, devi credere in quello che stai facendo, devi credere che Dio sia potente da poter operare quello che tu stai domandando. Quindi la fede è importantissima, entra e rende anche la preghiera di intercessione, la rende molto efficace, la rende potente. Infatti dice qui Giacomo, molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. E quando è che la preghiera è efficace? E' efficace soprattutto quando viene fatta con fede, capite? Perché è mediante la fede che si ottiene quello che si chiede in preghiera. Se rientra nella volontà di Dio. E poi fa un esempio, prende Elia, Elia chiese che non piovesse e Dio lo ha esaudito e non è piovuto. Poi dopo tre anni e mezzo ha pregato di nuovo e il cielo è aperto, di nuovo si sono aperto ed è scesa la pioggia. Ma è importante notare che dice di Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi. Quindi Elia ottenne da Dio grandi cose, però qui Giacomo ci tiene a dire non è che le ha ottenute perché era un superuomo, no? Era superiore agli altri, no? Perché qui Giacomo addirittura non è che lo sminuisce, attenzione, ma lo vende, lo mette alla pari degli altri fratelli. Dice era sottoposto alle stesse passioni che noi. Quindi noi credenti, come il profeta Elia, possiamo pregare, inginocchiarci e pregare il Dio e chiedere quello che sentiamo, ci sentiamo nel cuore affinché il Dio operi potentemente, credendo, credendo che Dio lo possa compiere e Dio lo farà. Attenzione, bisogna credere. Quindi come lo chiese con potenza Elia, eppure era un uomo come noi, vuole dire Giacomo, non è che i servitori, ricordatevi, i servitori di Dio. Anche quelli scritti avevano delle caratteristiche, è chiaro, particolari, dei doni particolari che Dio gli aveva dato, ma fondamentalmente erano uomini, tutti uomini sottoposti alle stesse passioni che siamo sottoposti noi. Quindi cosa vuol dire questo? Che noi siamo come gli altri servitori di Dio, per certe cose siamo livellati, siamo allo stesso livello, abbiamo le stesse possibilità, ecco la frase corretta, abbiamo le loro stesse possibilità. E loro perché ottenevano le cose che chiedevano? Perché pregavano con fede e magari chiedevano delle cose che erano secondo la volontà di Dio. Quindi se noi chiediamo qualcosa che è secondo la volontà di Dio, dobbiamo chiederle con fede e chiedendo con fede noi otteniamo, veniamo esauditi delle cose che noi chiediamo. E questo è importante, pregare con fede. Ma bisogna prima capire, bisogna capire che nella preghiera, una parte della preghiera che noi facciamo giornalmente, dobbiamo farla giornalmente al Signore, dobbiamo inserire, inserire, abituarci e inserire tutto ciò che riguarda l'intercedere, l'intercessione per gli altri fratelli. Cioè noi ci mettiamo in mezzo tra Dio e i fratelli. Ci mettiamo in mezzo e chiediamo a Dio che gli doni qualcosa. E noi lo possiamo fare anche, lo possiamo fare per i nostri familiari, chiediamo salvezza, chiediamo che li protegga, chiediamo, diciamo, che Dio gli provveda il necessario, li preservi da ogni male, da ogni sventura. E le stesse cose che noi ci sentiamo in cuore di chiedere per i nostri familiari che sono vicini a noi, attenzione, possono anche essere necessarie per i fratelli che magari non sono vicini a noi, però sappiamo che ci sono e hanno bisogno delle nostre preghiere. Ne hanno bisogno. La Chiesa ha bisogno della preghiera della Chiesa. Ogni singolo fratello ha bisogno della preghiera degli altri, capite? Ne abbiamo bisogno. Gli i profeti chiedevano preghiera. E quindi perché noi oggi non dovremmo avere bisogno che i fratelli preghino per noi? Quindi, fratelli, concentratevi sulla preghiera. Quando vi concentrate? Concentratevi sulla struttura, sulle parti di cui è composta la preghiera, affinché diate spazio, abbastanza spazio, anche alla preghiera di intercessione, che è importantissima. Mettersi in mezzo tra Dio ed altri fratelli, affinché questi ricevano ciò di cui hanno bisogno. Una cosa da considerare sulla preghiera, perché uno dice, vabbè, ma io non sono in prima linea, uno riflette, alcuni possono riflettere e dire, ma io non sono in prima linea, non combatto per il Signore, per la verità, per i fratelli, non sono come altri che sono più evidenti, che predicano, che fanno. Ora vi dico questo, che anche la preghiera è combattere e stare in prima linea, anche la preghiera, perché è scritto, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo in Romani, quindi aprite la vostra Bibbia, andate al capitolo 15 di Romani e al versetto 30, dal versetto 30, leggiamo queste parole, che scrive Paolo. Ora, fratelli, io vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo e per la carità dello Spirito, a combattere meco nelle vostre preghiere a Dio per me, affinché io sia liberato dai disubbedienti di Giudea e la sovvenzione che porto a Gerusalemme sia accettevole ai Santi, in modo che, se piace a Dio, io possa arriccarmi da voi con allegrezza e possa con voi ricrearmi. Quindi cosa chiese Paolo ai Romani? Chiese ai Romani, ai credenti di Roma, di pregare, di combattere con Lui in preghiera. Vedete? Quindi la preghiera è il combattimento contro il regno delle tenebre, contro i nemici della verità. Capite? Quindi è importante comprendere queste cose, perché quando ci accostiamo alla preghiera, quando ci accostiamo a chiedere qualcosa al Signore, lo dobbiamo fare sapendo anche che cosa ciò voglia dire e significhi. Intercedere ti metti in mezzo tra Dio e il fratello. Cosa fai quando preghi per il fratello? Stai combattendo con Lui, perché talvolta ci sono dei bisogni particolari. Ad esempio, qui in questo caso l'Apostolo Paolo cosa chiede? Chiede di combattere con Lui in preghiera. Perché? Perché voleva essere liberato dai disubbidienti di Giudea. Capite? Dai disubbidienti, dagli uomini malvaggi e violenti, da quelli che volevano il suo male, anche la sua morte. Oppure dai ladri, perché portava con sé una sovvenzione per i santi e quindi temeva magari che gliele potessero rubare. E' per questo che chiese anche preghiera ai romani affinché anche loro tutti insieme combattessero con Lui. Quindi è un combattimento, vedete? Quindi la preghiera è anche un combattere. Combattere contro il regno delle tenebre. Credo che sia il combattimento più forte, più potente, più efficace che il credente possa fare. Perché si viene esauditi per la fede e la preghiera. Cioè si ottengono la vittoria in tutte le cose. Si ottiene la vittoria perché si prega e confede il Dio. Ecco come si ottengono le vittorie. Non perché sei stato bravo, non perché sei stato, diciamo, hai centrato le parole giuste. No, se hai ottenuto una vittoria, sei ottenuto determinati risultati, non è perché sei stato bravo tu, è perché ti sei inginocchiato a pregare e Dio ti ha concesso di ottenere la vittoria. Capite? Hai ottenuto quindi la vittoria grazie al Signore. E questo è quello che Paolo, vedete, ha chiesto alla chiesa di Roma di intercedere praticamente per lui. E questa intercessione era appunto un combattimento. Mettersi tra Dio e Paolo, pregare per lui e combattere, interporsi e combattere contro il regno delle tenebre, contro tutti i nemici di Paolo. Con la preghiera hanno combattuto anche quelli di Roma contro tutti i nemici che erano in Giudea, vedete, senza essere presenti, senza essere presenti in Giudea, la chiesa di Roma ha interceduto per Paolo e ha combattuto contro i nemici di Paolo che erano nella Giudea, vedete? Erano presenti? No, però l'hanno potuto fare. Quindi, vedete, con la preghiera di intercessione noi operiamo anche non essendo presenti là con quel fratello. Però, però facciamo, operiamo questo grande combattimento. Dobbiamo saperlo, perché in preghiera è combattimento. Quindi quando vi alzate che siete sudati, stanchi, vi alzate dalla preghiera, sappiate che avete combattuto, avete consumato delle energie, perché avete combattuto contro il regno delle tenebre. Capite? Quindi vedete quanto è importante la preghiera? Capite perché vi esortiamo sempre a studiare le scritture e anche a perseverare nella preghiera? Perché la preghiera è molto importante. Capite? Cioè, la preghiera è la prima forma di combattimento contro il regno delle tenebre e questo lo possono fare tutti, piccoli e grandi, giovani e anziani, senza muoversi. Si entra nel combattimento contro il regno delle tenebre senza muoversi da casa, quindi non devi fare i chilometri. Però combatti insieme ai servitori di Dio, combatti in preghiera e il Signore ascolta, perché questa è la volontà di Dio, è scritto per nostro ammaestramento, quindi tutto questo è volontà di Dio e dobbiamo farlo, siamo chiamati a farlo. E uno dice, uno ogni tanto pensa, anzi forse lo pensano tutti, signore come devo fare io per servirti, per servire la Chiesa? Non devi fare opere potenti, non devi fare cose eclatanti che tutti vedono, devi fare le cose che vede Dio. Comincia dalla preghiera, comincia a pregare per ogni singolo fratello, chiedendo cose specifiche per lui, sapendo le cose di cui ha bisogno. Quindi operando in questa maniera tu sei in combattimento, se stai facendo un'opera potente, efficace, gloriosa, che è secondo la volontà di Dio, capite? Senza fare chilometri, senza sforzi, senza spendere denaro, senza niente. Quindi questo di pregare, intercedere per tutti i santi, lo possono fare tutti, non costa nulla, solo le ginocchia a terra, faccia a terra a invocare il Signore. Ancora chiese, sempre rimaniamo fermi, quindi Paolo, vedete, credeva fermamente nella preghiera di intercessione, perché chiese determinate cose ai santi di Roma. Però determinate cose l'Apostolo Paolo le chiese anche ai santi di Colosse. Ai Colossesi scrive queste cose, capitolo 4 di Colossesi dal versetto 2, scrive queste parole. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando in pari tempo anche per noi, affinché il Dio ci apra una porta per la parola, onde possiamo annunziare il mistero di Cristo, a cagion del quale io mi trovo anche prigione. E che io lo faccia conoscere parlandone come debbo. Qui l'Apostolo Paolo esorta i santi prima di tutto a pregare, ad abbondare nei ringraziamenti, a stare svegli, sia di notte a pregare di notte o stare comunque svegli spiritualmente. E dice anche, vedete, li esorta anche a pregare anche per lui e per i suoi collaboratori, per quelli che erano con lui aveva quindi bisogno, l'Apostolo Paolo aveva bisogno della preghiera di intercessione anche dei Colossesi. E dice, per quale motivo? Cosa gli chiese specificamente? Vedete come l'Apostolo Paolo chiede cose specifiche. Ai Romani ha chiesto di essere liberato dagli uomini malvagi della Giudea, capite? Che erano in Giudea. Qui ai Colossesi chiede, fa questa richiesta, che gli venga aperta una porta per annunziare la parola, il mistero di Cristo, l'Evangelo, per annunziare quindi la verità della parola di Dio e affinché lo facesse nella maniera giusta, corretta, capite? E chiedeva queste cose che i Colossesi dovevano intercedere per lui, dovevano intercedere per lui e per tutti quelli che collaboravano con lui. Vedete quindi che l'Apostolo Paolo alla preghiera di intercessione ci credeva fermamente, capite? E qui ha accennato, come abbiamo letto, ha detto che a cagione dell'Evangelo l'Apostolo Paolo era stato fatto prigione, va bene? Qui però ai Colossesi non gli ha chiesto di pregare per lui affinché fosse liberato. Affinché fosse liberato dalle sue catene, dalla sua prigionia, lo chiese alla chiesa che si radunava a casa di Filemone. Lo chiese a Filemone, quindi se noi apriamo la Bibbia, andiamo alla lettera di Paolo a Filemone, leggiamo al versetto 22, quindi Paolo scrive a Filemone preparami e gli dice, gli dice a Filemone, preparami al tempo stesso un alloggio perché spero che per le vostre preghiere io vi sarò donato. Tenete conto che Paolo era incatenato a cagione dell'Evangelo che annunziava. Cosa gli disse a Filemone? Che lui la sua speranza era che fosse liberato per quale motivo? A motivo delle preghiere che la chiesa faceva per lui. E ne era così convinto? Gli ha detto anche, guardate, io voglio essere liberato, sarò liberato, spero di essere liberato per le vostre preghiere. Le preghiere che voi, chiesa, state facendo per me, disse Paolo, voleva far capire Paolo. E siccome ne era così convinto, gli disse preparami anche un alloggio, capite? Questo preparami anche un alloggio vuole dire che Paolo pregava con fede, cioè ci credeva che, credeva fermamente, ci credeva fermamente che per la preghiera di intercessione lui potesse essere liberato, liberato dalle catene che lo tenevano prigioniero. È per questo che gli disse preparatemi un alloggio, perché Paolo quello che chiedeva, conoscendo la potenza di Dio, conoscendo anche la potenza della preghiera di intercessione della chiesa, lui si fece avanti e disse preparatemi un alloggio, perché sicuramente tutta la chiesa sta pregando per me affinché io sia liberato e sarò liberato per le vostre preghiere, capite? Quindi quanto, quanta fiducia riponeva l'Apostolo Paolo sia in Dio, ma anche nelle preghiere, vedete? Nell'efficacia, nell'efficacia delle preghiere che innalzava la chiesa, tutta la chiesa in genere, per lui, capite? Paolo ci credeva. Ora, altri motivi di intercessione, altri motivi di intercessione, un altro motivo lo leggiamo ed è importante anche questo, lo leggiamo dall'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 5, al versetto 16, leggiamo un'altra motivazione per cui dobbiamo pregare Dio per i fratelli, capite? Perché bisogna conoscerle queste cose, perché se no uno dice, ma io posso pregare per il fratello, per questo o quest'altra cosa? Quindi conoscere quello che sta scritto ci aiuta ad aprirci, no? Anche a capire che cosa domandare con la preghiera di intercessione. E dice così. Capitolo 5, abbiamo detto, versetto 16 di prima Giovanni, della prima epistola di Giovanni. E sta scritto, se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita. Vedete? Cioè, qui stiamo parlando che se noi vediamo dei fratelli che sappiamo che vivono nel peccato, che hanno commesso il peccato, è ordinato, è ordinato, vedete, anche è ordinato da Dio, è volontà di Dio che la Chiesa preghi affinché la persona che ha peccato venga perdonata. Faccia in modo che Dio gli conceda il ravvedimento, perché il ravvedimento è il pentimento sincero. È sempre Dio che lo concede. Quindi vedete qui anche la preghiera sul peccato non è sbagliato intercedere per coloro che hanno peccato. Perché come intercediamo anche per la salvezza degli increduli, così è giusto e corretto anche pregare Dio affinché conceda il ravvedimento ai fratelli che purtroppo si trovano in una situazione di peccato o che hanno commesso un peccato, affinché Dio gli conceda un ravvedimento e gli conceda la vita. Qui dice la vita. Quindi quando un credente vive nel peccato, commette il peccato, vedete, da qui dipende da che tipo di peccato si sta parlando, vedete, qui c'è scritto che gli sarà data la vita. Quindi che cosa sta rischiando il credente che vive nel peccato? Sta rischiando anche la vita, vedete. Quindi con la preghiera di intercessione un fratello cosa fa? Si mette in mezzo tra Dio e quell'uomo. In questo caso in questo caso Dio è adirato nei confronti di quel fratello e sta marciando contro di lui per farlo morire. Eh sì, questo è il concetto. Però cosa succede con la preghiera di intercessione? ci si mette in mezzo. Dopo vediamo un esempio di questo genere. Si mette in mezzo, si mette in mezzo e prega il Dio affinché non lasci andare la sua ira su quell'uomo che ha peccato, ma anzi, anzi, abbia pietà di lui, lo perdoni dei suoi peccati, gli conceda il ravvedimento e gli sarà donata la vita. Capite? Ah ma vedete quanto è importante la preghiera di intercessione? Vedete quanto è importante mettersi in mezzo? Quindi il credente non è mai neutrale. Il credente deve stare sempre in mezzo tra Dio e qualcuno. Capite? Questa è chiamata a fare. In questo caso è molto importante che purtroppo quando un credente si trova in una situazione di difficoltà che comunque è stato, ha permesso che fosse dominato dal peccato o che comunque ha commesso un peccato, ebbene l'ira di Dio si può scagliare contro di lui. Sta rischiando la vita, dipende dai tipo di peccati, però mi ricordo ad esempio la fornicazione, l'adulterio di quella donna Iezebel in Apocalisse ai primi capitoli e lei rischiava la vita, lei e i suoi figlioli per il peccato che aveva commesso. Quindi serviva qualcuno che si mettesse in mezzo, che si intromettesse con la preghiera naturalmente, chiedendo misericordia a Dio. E questa è un'opera perché noi abbiamo che chi intercede per noi, tra il Padre, no? Abbiamo sempre un intercessore che è Gesù Cristo, che intercede presso il Padre per noi. Capite? Ma questo lavoro di intercedere in preghiera, in preghiera chiedendo a Dio, lo dobbiamo fare anche noi credenti. Ci è richiesto che lo facciamo, che dobbiamo farlo anche noi credenti nei confronti dei fratelli. Perché, vedete, se io vedo un fratello peccare, se so che è in una situazione di peccato, io per amore di quel fratello, oltre naturalmente a esortarlo, a sgridarlo, ad abbandonare il peccato, una delle cose che devo fare per amor suo, per la sua vita, è quella di intercedere in preghiera per lui. Vedete? Così si manifesta veramente se uno ha amore per quel fratello oppure no. E questa, vedete, è un'altra motivazione, ce ne possono, ce ne sono tante, eh? Io ne sto citando alcune di motivazioni per cui noi siamo obbligati, non è una cosa che se lo vuoi fare, no? Lo devi fare perché la parola te lo richiede, te lo richiede, capite? Una cosa da considerare ancora, tenendo conto quello che ha scritto Giovanni e quindi l'ha scritto Giacomo, ha scritto Paolo sull'intercessione, sull'intercedere in preghiera per i santi e l'ha scritto anche Giovanni, perché anche Giovanni quindi credeva nella potenza della preghiera di intercessione dei santi verso gli altri, capite? anche Giovanni, non solo Paolo e Giacomo. Ora andiamo, voglio farvi leggere adesso, voglio presentarvi degli esempi, degli esempi in cui c'è stata la preghiera di intercessione ed è stata esaudita. Questo perché è importante, diciamo, conoscere anche che quello che noi teoricamente studiamo o che apprendiamo dagli apostoli, dalla parola intera, ci sono anche dei casi, è importante anche leggere dei casi in cui quello che, diciamo, è dottrinalmente riconosciuto in realtà è già accaduto, avviene esattamente così come è scritto. E dobbiamo andare a leggere qualche esempio. Andiamo, due esempi li troviamo al libro dei fatti apostolici, libro degli atti, al capitolo 9, al versetto 40. E vi faccio una premessa. È avvenuto che una donna che era credente, che si chiamava Tabitha, ma si può anche dire tranquillamente che si chiama Tabitha perché è ancora vivente e sicuramente sarà nei cieli, quindi se diciamo che si chiama Tabitha non è un errore, anzi è uno specificare che è ancora vivente. Perché il Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi, quindi ricordiamo, apriamo, questa è una parentesi, ma leggiamo che ciò che riguarda questa Tabitha, no? Che era morta, praticamente era successo che faceva tanto del bene alla chiesa questa donna. E cosa è successo? È successo che morì. Avvenne in quei giorni che la infermò e morì. è scritto al versetto 9, 37 di atti. Quindi si era ammalata ed era morta. Ma fecero chiamare Pietro. Va bene, ora arrivò Pietro. Pietro si ritirò nella stanza, si ritirò nella stanza con questa donna che era morta. E al versetto 40 leggiamo queste parole. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò e voltatosi verso il corpo, disse Tabitha, levati. Ed ella aprì gli occhi e veduto Pietro si mise a sedere. Ed egli le die la mano e la sollevò e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Ioppe. E molti credettero nel Signore. Vedete? Quindi questa donna Tabitha era morta. Non poteva fare niente. Non è che poteva pregare lei per se stessa. Ormai era morta. Però Pietro cosa ha fatto? Ha interceduto per lei. Si è inginocchiato. Ha pregato il Dio. È andato davanti al trono della grazia. Perché la preghiera vuol dire presentarsi davanti a Dio a lodarlo, a glorificarlo, a riconoscerlo per quello che è e in più a chiedergli determinate cose. Tra cui anche chiedere le cose per altri fratelli. Che questa è intercessione. Cioè pregare Dio affinché altri ricevano un suo favore, un suo beneficio, una sua benedizione. In questo caso questa donna di che cosa aveva bisogno? Questa donna era morta. Quindi aveva bisogno della vita. Ebbene, vedete, Pietro pregò con fede e dopo ordinò a tabita di levarsi. E questa si levò. Fu esaudito. È potente o non è potente questa preghiera? Perché questa è un'intercessione. Non è che quella donna è risuscitata perché Pietro era Pietro, aveva qualche cosa. Quella donna è risuscitata perché Pietro ha levato la sua voce in preghiera a Dio per intercedere per lei e Dio lo ha esaudito. Gli ha detto sì. Ti concedo questo. Te lo concedo. Perché era secondo la sua volontà. E giustamente lui ha pregato Dio ed eccola. È tornata in vita. Vedete quanto è potente? E questa è una preghiera, una forma di una preghiera di intercessione. Lei non ci poteva fare più nulla? Pietro si è messa in mezzo tra Dio e lei e l'ha richiamata, il Dio l'ha richiamata dalla morte. Vedete? Quindi si è adempiuto, mettersi in mezzo, vedete? Ha portato il suo frutto. E come si ha portato il suo frutto? Ed è importante. Ed è glorioso. È rimasto scritto fino a noi oggi e ci edifica. Vedete? Ci fa vedere quanto è potente il Dio nell'operare. Ma ci fa capire anche che è importante che Pietro sia lì in quel momento per intercedere per quella donna. Capite? Perché Dio la poteva anche risuscitare senza la presenza di Pietro. E invece ci vuole la presenza di Pietro. Cosa ci fa capire questo? Ci fa capire che Dio può benedire i fratelli, ma certo li può benedire, gli può dare tutto quello che lui... Lui può farlo, ma ha stabilito che lo faccia per intercessione dei santi. La Chiesa deve pregare l'uno per l'altro. Onde siano guariti, onde ricevano ciò di cui hanno bisogno. Così Dio ha stabilito. Ha stabilito che si faccia in questa maniera. Non che Dio sia impedito di farlo anche senza. Ma Dio vuole, quindi è secondo la sua volontà, che i santi impieghino in preghiera del loro tempo per pregare, per intercedere per gli altri. che degli altri fratelli che hanno bisogno. Capite? Quindi è importante anche capire questo. Che è una cosa necessaria da fare con fede, è necessaria che sia fatta. Quindi deve essere fatta con fede. Un altro esempio di come ci si mette in mezzo tra Dio riguarda il caso di un popolo. Quindi andiamo indietro qui, nei libri della Bibbia. Andiamo fino al libro di Esodo, dove vediamo che, quante volte l'ha fatto, Mosè si è messo sulla breccia, si è messo tra Dio e il popolo, perché il popolo peccava e Mosè intercedeva per il popolo. Vedete? L'abbiamo letto prima, anche nel Nuovo Testamento è scritto in Giovanni che bisogna pregare per il fratello che pecca per concedergli la vita. E gli esempi nella scrittura ci sono anche di questo. Ad esempio, Mosè intercedeva per il popolo che aveva peccato. Capite? Adesso andiamo a leggere, leggiamo qualche versetto, dal libro di Esodo. Nel libro di Esodo leggiamo, vi ricordate quando il popolo di Israele, e Mosè mancò, andò sul monte Sinai a ricevere la legge, a parlare con il Dio, col Padre, con l'Eterno. E il popolo intanto si fece un vitello d'oro. E adorò questo vitello d'oro. Peccarono gravemente. Capite? Peccarono gravemente. Cos'è successo? Quando Mosè si rese conto di tutto, alla fine Mosè, ecco cosa fece. In questo leggiamo capitolo 32 di Esodo, al versetto 30, dal versetto 30. L'indomani Mosè disse al popolo, voi avete commesso un gran peccato, ma ora io salirò all'Eterno, forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Vedete? Quindi qui è avvenuto in pratica quello che diceva Giovanni, che abbiamo letto prima in Giovanni. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse, ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un iddio d'oro. Non di meno, perdona ora il loro peccato, se no, dè, cancellami dal tuo libro che hai scritto. E l'Eterno rispose a Mosè, colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Poi avvenne, è vero che Dio ne punì, ma non distrosse tutto il popolo, capite? Alla fine Mosè fu esaudito, Mosè si mise in mezzo tra il popolo e Dio, Dio era adirato col popolo, stava per scendere la sua grande punizione, magari stava già pensando di spazzare via tutto il popolo, ma Mosè si mise in mezzo, si mise tra Dio e il popolo, si mise a intercedere per il peccato di quel popolo. E infatti il popolo non fu distrutto interamente, Dio punisce, ma non distrugge completamente. Quindi il popolo di Israele ancora oggi esiste perché ci sono stati uomini come Mosè che hanno interceduto per il peccato di quel popolo di collo duro, perché era un popolo, era ed è un popolo di collo duro, quindi com'era è rimasto. E quindi vedete come Mosè si mise, talmente era, diciamo, Mosè voleva, voleva che il popolo fosse, fosse diciamo perdonato, perché se no, se Dio lasciava andare la sua ira, sarebbe stato distrutto. E dice anche, va bene, se non lo vuoi perdonare, uccidi anche me, eliminami anche me, cancellami dal libro della vita, capite? Gli fa anche questo ragionamento, perché in preghiera Mosè, quando parlava con Dio, non solo lui, ma lo dobbiamo fare tutti, quando noi andiamo in preghiera, dobbiamo cercare di utilizzare anche le parole giuste. Non ci dobbiamo accontentare del fatto che Dio già conosce le parole, conosce i nostri cuori, certo, ma tu utilizzale lo stesso, le parole giuste, per convincere in ogni modo il Dio a fare una determinata cosa, capite? Perché questo ci ha comandato pure questo, e Mosè lo fece, va bene, se non vuoi salvare, eppure lui non peccò, però lui disse, va bene, distruggi anche me, col tuo posto, se non lo vuoi perdonare, distruggi anche me, cancella anche me. E invece Dio gli ha detto assolutamente no, cioè Dio non tratta colui che è giusto nella stessa maniera come colui che invece è malvagio, capite? Il peccatore, cioè il colpevole, non viene trattato come l'innocente, né l'innocente come il colpevole, e Dio non si sbaglia, capite? Non è che fa degli errori, che colpisce in mezzo chi chiappo chiappo, no, è preciso il Signore, è perfetto in ogni operare, anche quando dà le sue punizioni, anche quando lancia le sue punizioni. Ed ora volevo andare a terminare questa mia esortazione, a pregare per intercedere per i santi, in base al bisogno specifico di ognuno, volevo terminare con una questione, cioè, ma quando ci dobbiamo fermare di pregare, quando è il momento di fermarsi e di intercedere per i santi? No, perché poi uno prega tutti i giorni, per anni, e poi può venire in lui la stanchezza, non vede l'esautimento, e dobbiamo rispondere quindi alla questione che, quando devi smettere di pregare, e la scrittura, facciamo un ragionamento tratto dalle scritture, che ci dice il momento in cui dobbiamo smettere. E qui ritorniamo a quello che è accaduto all'Apostolo Paolo, ritorniamo all'epistola, no, oggi non l'abbiamo citata, la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, quindi seconda Corinzi, al capitolo 12, leggiamo dal versetto 7, «E perché io non avessi a insuperbire, a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi ond'io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Cosa era successo qui? Che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto delle grandi rivelazioni da Dio, una grande sapienza, una conoscenza anche approfondita dei misteri della parola di Dio. Era stato rapito anche al terzo cielo, aveva udite cose che gli uomini non possono udire, che non è lecito riferire. E cosa ha fatto? C'era il rischio, quindi, avendo ricevuto tante rivelazioni, avendo ricevuto, diciamo, avendo ricevuto un'eccellente rivelazione da parte di Dio, c'era il rischio che lui si insuperbisse. Cosa ha fatto il Signore? Il Signore gli ha mandato una scheggia nella carne, un angelo di Satana che lo schiaffeggiava. Lui cosa ha fatto? Un angelo di Satana che schiaffeggia Paolo, così è scritto, così è. Non mettiamo in dubbio niente, non è né figurativo né niente. Da che cosa si deduce che non è figurativo? Perché dopo Paolo dice, quando Paolo, in merito alla sua preghiera, dice, ha pregato affinché l'allontanasse da me. Un angelo che lo schiaffeggia, che l'allontani da lui. Se lui avrebbe chiesto di guarirlo, noi avremmo capito che forse poteva essere figurativo, poteva essere una malattia. Invece, essendo un angelo di Satana che proprio esattamente lo schiaffeggiava, Paolo, avendo questo fastidio, questa cosa che lo disturbava, pregò il Padre tre volte affinché l'allontanasse da lui. Quindi che cosa voleva lui? Lui voleva che quel fastidio, quell'angelo di Satana che lo schiaffeggiava, fosse allontanato. Capite? Ecco, quindi, che anche qui si deve prendere letteralmente quello che è scritto. Non ci sono interpretazioni da fare. Ma non è questo, comunque, perché ho citato questo versetto. Questo versetto l'ho voluto citare, questo fatto, per farvi capire che Paolo ha pregato tre volte, vedete? Fino a quando Paolo ha pregato? Ha pregato fino a quando Dio non gli ha dato una risposta. Vedete? Quindi, con queste parole volevo chiudere il discorso e rispondere alla questione che è quando devo smettere di intercedere per qualcuno. Devi smettere quando è Dio che te lo dice, oppure la cosa viene esaudita. Se stai pregando per la conversione di qualcuno e questo muore, è chiaro che non te lo devo dire io che devi smettere di pregare per la sua conversione se non c'è più. Capite? Quindi, voglio dire, tenendo sempre conto il buonsenso e la convenienza nelle cose, essenzialmente dobbiamo tenere conto che dobbiamo smettere di pregare per il fratello, di intercedere per lui quando o la cosa esaudita si è risolta oppure pregare fino a quando Dio non ti vieta di chiedere quella cosa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se Dio non te lo vieta tu devi continuare. Capite? È un'autorizzazione, un ordine a continuare, a chiedere una determinata cosa fino a quando Dio non ti dirà no, questa cosa non me la devi chiedere più come fece con Paolo. Capite? Cosa si nota un'altra cosa? Che Dio è attento alle preghiere, vedete, gli ha permesso di farla tre volte la preghiera e non oltre. Quindi gli ha comunicato qual era la sua volontà in quella questione, in quella faccenda, in quel caso. E noi dobbiamo credere che Dio ci possa rispondere o no? Anche di no. Ci dobbiamo credere, vedete la fede come in ogni risvolto della nostra vita, in qualsiasi cosa facciamo, c'è sempre di mezzo. Dobbiamo credere. E purtroppo uno dei problemi maggiori nella Chiesa oggi è proprio quella della fede. Nella fede. Non si crede, si inizia a non credere a quello che sta scritto e poi si va a finire a credere più a tutte le cose dell'uomo che alle cose di Dio. Ma noi non dobbiamo essere tra quelli. Noi siamo tra quelli che credono in tutto quello che è scritto nella parola. Che la parola ci ammaestra, ci rende compiuti, credenti maturi spiritualmente per arrivare fino alla fine mantenendoci fermi nella fede ed entrare così nel regno celeste. Capite? Quindi bisogna perseverare. Perseverare nella fede fino alla fine. Ricordandoci che una delle cose che dobbiamo fare tra tante è quella di pregare. E nella preghiera ci dobbiamo ricordare che dobbiamo intercedere per i santi. Per tutti i santi ad uno ad uno chiedendo specificamente quello di cui quella persona ha necessità. Quando smettere? Sempre la parola ci dice quando o viene esaudito o non è più conveniente domandarlo perché è avvenuto qualcosa oppure quando il Dio ti ordina di non farlo più. Ecco quindi fino a che non succede non succede una di queste cose tu devi continuare sei obbligato a continuare sia a pregare per te questo vale per tu e anche per intercedere per i santi. Capite? Quindi questa era l'esortazione che volevo volevo darvi oggi per pregare e intercedere con perseveranza anche per i santi. A Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.